Prima di iniziare il video voglio ringraziare Davide, Simone, Antol e Marco, sono gli ultimi abbonati al canale. Grazie mille per il supporto. Olè, eccoci qua, bentornati in un nuovo video. Signori, oggi voglio cercare di implementare anche qualcosina in più nelle pagelle. Al termine di questo video troverete anche la live reaction che ho ricaricato in forma breve, perché comunque mi piace riportarvi le live reaction, anche se non con un video dedicato, perché è un po' più discorsivo, però mi piace avere una raccolta di quelle che sono le esultanze un po' più clamorose. Quella di ieri mi ha veramente sfinito, ero esausto, completamente esausto alla fine della partita. Chi era su Twitch lo saprà bene, per tutti gli altri vi lascio la clip al termine. Vi chiedo ovviamente un supporto, un mi piace, un commento qui sotto, preventivo, perché nelle pagelle a me piace sempre avere un commento preventivo in cui mi fate la vostra pagella, poi magari ascoltate la mia e andiamo a confrontare le opinioni. Sempre bello avere questo dialogo attivo nei commenti, un'iscrizione al canale e come al solito vi ricordo che gli abbonati questi video li vedano prima. Vi ricordo anche che qui sopra nelle schede ho pubblicato il video di questa mattina delle 7 in cui vado a parlare delle parole di gatti nel post partita, dove ha alzato ulteriormente l'asticella e è andato a seguire le parole di Rabiot della settimana scorsa. Se non l'avete ancora visto, al termine di questo video trovate tutto qui sopra nelle schede. Votto 5 e mezzo a Massimiliano Allegri e io so che già qui qualcuno non sarà d'accordo con la mia lettura. La partita di ieri la Juve la vince meritatissimamente, partendo a questo presupposto la vittoria della Juve è meritata. Il Monza trova il gol al novantesimo, è un gol unico perché il Monza non aveva creato dei pericoli di chissà quale tipo e infatti Scesni si becca un senza voto, esattamente come con l'Inter. La Juventus però ricade sempre all'interno dello stesso schema. È una squadra che una volta che ha fatto gol rinuncia completamente alla fase offensiva. Poi magari il tiro in porta te lo fa, poi magari l'occasione per andare a raddoppio te la fa, come quella di gatti. Però noi ragazzi siamo una squadra che andiamo veramente, sempre e solo a creare delle azioni pericolose su calcio piazzato. Ieri Palladino al termine della gara ha detto che nel calcio il calcio piazzato è il 30% dei gol segnati, segnati e subiti. Noi siamo una squadra che forse il 30% gli fa su azione. C'è proprio completamente un concetto diverso. È la partita di ieri, per quanto il Monza non avesse fatto niente, secondo me Palladino ha delle grosse responsabilità. La formazione iniziale del Monza è qualcosa di sciagurato. è andato a rinunciare completamente alla sua idea per andare a difendere ulteriormente su questa Juventus. Ce n'era necessità, ce n'era bisogno, non lo so. Forse Palladino si è fatto un po' spaventare da quello che è stato il primo tempo della Juventus contro l'Inter, senza andare a pensare, a ragionare, ad analizzare tutte le altre gare di questa Juve. Perché questa è stata una partita completamente invertita rispetto all'Inter, dove la difesa sbaglia e l'attacco domina, qui invece l'attacco che sbaglia è la difesa che domina. Quel gol che abbiamo preso, che poteva portarci via due punti pesantissimi, importantissimi, è frutto del fatto che la Juve non accetta di chiudere le partite. Io continuo a dire che la Juve non vincerà lo scudetto. Inizierò a credere nello scudetto non quando la Juve inizierà a avere più possesso palla, non quando la Juve inizierà a segnare più gol, non quando la Juve inizierà a prenderne meno, non quando la Juve giocherà meglio dal punto di vista estetico, ma quando la Juve farà questo passo in avanti dal punto di vista della mentalità di cercare, di volere, di esigere di chiudere le partite. Quando la Juventus andrà a cercare la chiusura della partita e riuscirà a portarsi in vantaggio di due reti, e poi andare a fare quella partita speculativa, di lotta, bassissimi, allora lì lo posso comprendere. Ma se dobbiamo per tutta la partita sempre difendere un gol di vantaggio, io sono convinto che questa squadra non riuscirà a vincere lo scudetto. Perché? Perché succederà, come ieri è successo, che possano esserci degli eventi, come un cross sbagliato agli avversari che si trasformano in gol, che andranno a portarti via dei punti. Esigo anche andare su un altro punto, perché qui non è che si sta esultando a come è arrivata questa partita, a come è arrivata questa vittoria. La partita è stata brutta, è utile girarci intorno. È stata una partita, secondo me, anche abbastanza noiosa, che la Juve vince meritatamente perché il Monza ha fatto niente e la Juve ha fatto e sempre solo su piazzati praticamente, tranne in occasione del gol di Gatti, dove lì vogliamo andare a fare gol e lì ci dà la dimostrazione questa squadra che se vuole fare gol il gol lo fa. Ed è una dimostrazione molto importante. Si esulta perché questa vittoria è importantissima. Poi la Juve ha tanti difetti e li ha messi in evidenza anche ieri sera. Migliorerà, secondo me, no, perché Allegri non vuole cercare questo tipo di miglioramento. Sono abbastanza convinto che Allegri non voglia cercare il miglioramento da questo punto di vista, che è il punto di vista che secondo me invece è il più importante per entrare nella lotta a Scudetto. Quindi è vero che l'abbiamo vinta con la partita, ma io non credo che ci possa essere una valutazione positiva nel ruolo dell'allenatore. Come non ci può essere un'insufficienza pesante perché alla fine della fiera la Juve la vittoria l'ha meritata. Però questa Juve può e deve dare decisamente di più solo se vuole rimanere lì, in quelle posizioni lì, perché se no se dobbiamo arrivare nei primi quattro questo basta e avanza. Cioè se la lettura davvero sulla quinta posizione e basta arrivare in Champions e chi se ne frega di rimanere a lottare, allora questo basta e avanza per quello che è il livello della Serie A. è sufficiente, è la grandissima, anzi è abbondantemente sufficiente. Sarà che io voglio rimanere lì attaccato. E per rimanere lì attaccato so che questo non può bastare. Non può bastare. E il gol di Valentin Carboni ci deve insegnare tantissimo di ieri sera. Mi hanno già detto, senza voto a Scesni, tra Inter e Monza, guantoni immacolati, poteva benissimo starsene a casa a versi una birra. 6 e mezzo ad Alexandro invece, che ha fatto una prestazione solida dietro, difensivamente. Non mi aspettavo di vedere un Alexandro così pimpante già a rientro. Invece ha fatto assolutamente il suo. È andato anche vicino a fare un assist in torsione a Gatti su calcio d'angolo, che poi Gatti non ha sfruttato. Però un bel Alexandro ieri sera. C'è da fare i complimenti perché è rientrato molto bene. Gatti invece voto 6. E io lo so che qua qualcuno non sarà d'accordo. Sono veramente convinto. Però lasciatemi spiegare le mie motivazioni. Gatti si mangia quel gol del raddoppio che era vitale. È un difensore. Di professione non fa l'attaccante. E lo si può pure perdonare. Sul gol la sliscia la prima volta. Poi è bravo a caricare, a tirare alto, perché c'era un difendente del Monza sulla linea. Avrebbe potuto beccare e non fare gol. Quindi molto bravo dopo sulla seconda occasione. Ma l'è una prima, ma ribadisco. È un difensore, non fa l'attaccante. Ma nel gol che prendiamo da parte del Monza, invece c'è un bel errore di Gatti, eh. Perché Carboni sbaglia al cross. La parabola passa, Gatti abbassa la testa, e quell'abbassare la testa da parte di Gatti fa passare il pallone. Lì non puoi fare la tartaruga, la testuggine, non puoi mettere la testa dentro il guscio. Se sei il difensore, lì devi, anzi, cercare di alzarti il più possibile per respingerla. E quella roba lì è molto grave. E per fortuna che Gatti poi diventa l'eroe della serata. Dopo l'errore difensivo, dopo l'errore offensivo, dopo un altro errore offensivo, poi però trova l'impatto giusto col pallone e diventa l'eroe della serata. Ed è stato meraviglioso il gol di Gatti e vederlo con quegli occhi spiritati, perché ti fa capire quanto cazzo ci tiene, non ho parlato nel video che ho pubblicato questa mattina. Però secondo me se metto tutto nel calderone viene fuori un 6, eh. Perché Gatti ha fatto tanti errori. Poi è l'eroe, il match winner, è l'uomo del destino. Mashtag few, come aveva detto Allegri quando ancora era sui social anni e anni fa. Non so se siete d'accordo con questa lettura, so che qualcuno si potrebbe arrabbiare, ma la prestazione di Gatti va analizzata al microscopio, perché tanto bene e tanto male messo insieme. E anche qua so che qualcuno non sarà d'accordo, io ho letto tante pagelle positive di Bremer, ma quel cartellino giallo che ha preso all'inizio è stato, secondo me, di un'ignoranza vergognosa e poi è andato a limitarsi tanto nella partita. Non ero molto tranquillo di Bremer ieri, devo essere sincero, devo essere onesto. E secondo me 5 e mezzo è la valutazione più giusta per il difensore centrale brasiliano. Voti invece 6 e mezzo a Cambiaso, che è andato a procurarsi quel calcio di rigore. Fa sempre quel lavoro con McKennie sulla destra, vanno sempre a scambiarsi loro due. McKennie ieri meno pimpante, meno presente, meno pressing rispetto all'Inter, dove invece andava spesso e volentieri su Acerbi per cercare di recuperare il pallone alto. Cambiaso e McKennie si scambiano tanto, sono importanti per garantire alla Juventus palleggio, per garantire alla Juventus uscite, per garantire alla Juventus anche una certa fase difensiva. E Cambiaso sta iniziando anche a destra a trovare un pochino la sua dimensione. Giocatore molto, molto intelligente Cambiaso, giocatore molto, molto migliorato McKennie. Sono due da tenere in considerazione, seria considerazione per questa Juve. E qua invece sono molto contento, sono molto contento, perché Hans Nicolussi di Caviglia si porta a casa un 7. Non era partito molto bene, perché nelle primissime battute di gara c'erano stati un paio di errori anche in disimpegno, anche sul pressing del Monza, che mi ha fatto dire aia. Invece poi quell'assist, perché l'assist di Rabiot è suo, da calcio d'angolo, calciato molto, molto, molto bene. Bellissimo impatto, gran gol di Rabiot, gran parabola di Hans Nicolussi di Caviglia. Poi è entrato nella partita, da centrocampista, mica tanto di Fioretto, è entrato nella partita da centrocampista, che doveva anche far sentire la presenza. E per essere la seconda partita effettiva, perché è la seconda partita effettiva, lasciamo stare il subentro a Cagliari, lasciamo stare l'esordio mille anni fa con la Juve, ma è la seconda partita effettiva, da calciatore della Juve. Beh, beh, inizio a sperare che possa esserci continuità in questo ragazzo, che sta giocando per emergenza, perché Locatelli ancora non sta bene, ma ieri sera ha risposto presentissimo, mica presente, ha risposto alla grande. Quindi bravo, bravo, bravo Hans, bella partita, mi sei piaciuto. Voto 8 invece a Rabiot, e qua sono molto contento di poter dare un 8 a Rabiot, perché in tutta l'annata, lo sapete bene, ho fatto un po' fatica nelle pagelle con Rabiot, sono sempre stato tra il 5 e mezzo e le 6, non vedevo quelle partite di Rabiot di un certo tipo, ho iniziato a vederla con l'Inter, quel dominio su Barello ormai sta diventando una sorta di classico, e ieri sera superiore, letteralmente superiore a tutti gli altri, quel gol su calcio d'angolo, meraviglioso, un'incornata, tra l'altro un momento psicologico della gara non importante, determinante, perché aveva appena sbagliato il calcio di rigore e la Juve non era partita bene, quindi quel gol lì è molto importante, perché se Rabiot non fa quel gol lì non so che partita viene fuori, devo essere onesto, e poi alza i giri del motore, si fa carico di quella palla di McKennie, una palla normale, banale, che Rabiot trasforma praticamente in una palla giocabile, ha trasformato l'acqua in vino, per citare un miracolo della Bibbia, quello strappo, quel pallone, quell'assist a Gatti, perché è vero che poi Gatti lo sbaglia, ma l'assist lo fa Rabiot, l'assist lo farà più, la giocata la farà più, il gol di Gatti è di Gatti, ma è di Rabiot, e ieri è veramente salito in cattedra, e ha dimostrato di essere un giocatore che per questa Serie A è un lusso, inutile girarci intorno, è diventato un calciatore che è un lusso, l'anno scorso l'ha dimostrato, quest'anno ha fatto un po' fatica, la partita ieri sera conferma, quella che era l'impressione dell'anno scorso, quindi molto bene, è per quello che nelle partite precedenti vi dicevo, continuo a non vedere Rabiot, e qualcuno mi diceva, ma ce l'hai con Rabiot, non gli riconosci i meriti, no no, lo fa queste partite qua, vedo Rabiot, quando fa queste vedo Rabiot, e c'è margine per avere questo Rabiot sempre, questo è il bello, voto 5 a Kostic, sinceramente non ho idea di come valutare la partita di Kostic, faccio veramente fatica, su che basi si valuta la partita di Kostic, non l'ho praticamente mai visto, non ho ricordi, ecco su Kostic, non lo so, forse su Kostic sono un po' prevenuto, non ne ho idea, ma quest'anno non sto vedendo Kostic, per niente, cioè quando vedo giocare Cambiaso, anche magari al posto di Kostic, lo vedo sempre più impattante, non so se è una mia considerazione, se siete d'accordo pure voi, ma Kostic sta facendo una fatica bestia adesso, 8-4 Vlaovic, mi spiace bocciare così il blocco della Serbia, ma Vlaovic fa una partita onestamente inconsistente, il nulla, perché Vlaovic non mi può morire di testa perché mi sbaglio il rigore, è esattamente come a Reggio Emilia col Sassuolo, l'arbitro non gli fischia un fallo a centrocampo, e lui protesta per ammunizione in scena della partita, completamente, rigore, che a far gol così come no, i rigori si sbagliano, anche se al secondo di fila non è questo il problema, ma su quella respinta deve essere cattivo, perché su quella respinta l'ha smangiucchiata, svirgolata col suo piede forte, con il portiere che era giù dall'altra parte, aveva tutto il resto della porta a disposizione, e ha dato la possibilità a Di Gregorio di fare un miracolo, perché Di Gregorio fa un miracolo sulla respinta, ma perché fa un miracolo? Perché Vlaovic non è cattivo a buttarsela dentro davvero, non va con quella cattiveria che invece deve avere, questo è un bel peccato, perché questo è un giocatore che le potenzialità ce le ha, ma finché non migliora qui, Vlaovic deve prendere esempio Federico Chiesa dal punto di vista della mentalità, perché Chiesa ne ha da vendere, Chiesa da quel punto di vista è un giocatore superiore, Vlaovic invece fa molta fatica, e Chiesa perde 5 e mezzo, perché anche Chiesa non ha fatto chissà qual tipo di partita, ci sono un paio di spunti di Chiesa, uno in velocità sulla sinistra, che mette quella palla, mi pare inizio secondo tempo, rimorchio per Vlaovic, che anche lì se la smangiucchia, se la smangiucchia, e Vlaovic ha un bagaglio tecnico, che non può permettersi di smangiucchiarsi, quella palla non può permettersi di smangiucchiarsi, una ribattuta porta vuota, praticamente dopo un calcio di rigore sbagliato, e Chiesa poco, poco e niente sinceramente, e quel duello individuale di Rabiot, sono quelle cose che vorrei vedere a fare Chiesa, da Sassuolo in poi la Juventus, è diventata monodimensionale, neanche bidimensionale, monodimensionale, l'uno contro uno, i duelli individuali sono sempre meno, li vediamo sempre meno, è una Juventus veramente che sta lì, e basta, e basta, e invece da uno come Chiesa, pretendi che ci sia sempre questa voglia di andare, questo motore da far girare, ed è un peccato onestamente, vederlo così, voto 6 a Danilo, che rientra dopo l'infortunio, un rientro molto importante, molto pesante, la Juventus è sicuramente mancato, e rientra avanti alla difesa, questa un'allegrata, che prende in eredità da Pirlo, di quelle devastanti, non pensavo di poter vedere Danilo avanti alla difesa ancora, l'ultima volta credo che sia stato, che fosse stato contro l'Empoli, 1-0 Empoli all'Allianz Stadium, brutti ricordi, ricordi del Vietnam, eppure va lì, fa il suo, poco da sottolineare, poco da evidenziare, una mossa prettamente difensiva, per portare a casa il risultato, e far passare gli ultimi minuti di gara, e poi su Milik, su Kemp, e su Locatelli, onestamente, c'è poco da dire, hanno giocato veramente pochi minuti, Milik in realtà ha giocato gli stessi di Danilo, ma non l'ho mai visto entrare, in azione l'ho mai visto toccare la palla, stessa roba per Kemp, quando mai l'abbiamo visto in palla, Locatelli, giocato veramente pochissimi istanti, ma Nicolussi Caviglia non ha fatto rimpiangere la sua presenza, e quindi niente, questo è un po', alla fine il riassunto della partita, le valutazioni personali, singole, sui calciatori, sono curioso di sapere la vostra opinione, perché ci sono due o tre, nomi, che secondo me faranno un po' discutere, però io, la partita l'ho vista così, ho ampiamente spiegato le mie motivazioni, voglio sapere invece le vostre, vi lascio la mini live reaction così, per concludere il video, ciao ragazzi, alla prossima, Monza 1 Juventus 2, ecco la mia paccatissima reazione in live reaction, pacata, ehi, rigore, ma dai, ma dai, e poi c'è un gol su calcio d'angolo, cazzo, Adria Rabiot, cazzo, su calcio d'angolo, subito, dai, continuiamo così, c'è un più gol su calcio d'angolo, che su rigore, capitano, ma ecco, vedi, 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 ma te lo meriti, Elgo ho preso, porca vacca, se te lo meriti, eh, vedi, se te lo meriti, ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, se te li meriti, sti, eh, loro non tirano, non tirano, sì, e tu non raddoppi, non raddoppi, e poi crossano, si sbagliano, un episodio, basta un episodio, se tu queste partite, non le raddoppi, non le chiudi, non ci provi, dai, ti vedi che se vuoi fare gol, fai gol, se vuoi fare gol, lo fai, l'aveva smonchiata, e poi l'ha fatto, se vuoi fare gol, lo fai, non accontentiamoci mai, impariamo, non accontentarci, cazzo, più godurioso, questo secondo, che tutto il resto, della partita, la vince, il 94esimo, con il tot di Gatti, dopo aver preso, numero uno, da Valentin Carboni,